Eccoci qui, buonasera a tutti e grazie a Parole Guerriere, grazie Diego di questa lunga introduzione, dei saluti di tutti i portavoce nazionali, europei. È un piacere poter vedere questa partecipazione, stavo vedendo il numero di partecipanti da quando sono entrato, siamo arrivati a oltre 200, io credo che sia veramente un bel traguardo e sia un segnale importante, sia un segnale importante di questa necessità vera e propria perché abbiamo bisogno di rincontrarci, di provare a parlare di nuovo insieme perché di fatto io ringrazio tutti voi qui che siete oggi presenti perché prendersi il tempo di poter interloquire, secondo me dà un valore aggiunto a quello che stiamo realizzando. Noi dobbiamo ricordarci bene con la testa e con il cuore stare sui territori da dove veniamo anche perché consentitemi di dire questo mio intervento facendo la mia solidarietà, dando tutta la mia solidarietà al nostro sindaco, al sindaco del Mastro di Pomigliano d'Arco che ha ricevuto in queste ore una minaccia, una busta, diciamo una busta da lettera con all'interno un proiettile e significa veramente una vera e propria minaccia. Noi io voglio dire a lui che lo Stato gli è vicino, che noi abbiamo il dovere di proteggere tutti gli operatori, consiglieri comunali e di maggioranza e di opposizione che lavorano ogni giorno sui territori, a maggior ragione gli amministratori, i sindaci che devono sentirsi al sicuro nel operare la democrazia nel nostro Paese e questo secondo me è il primo messaggio che voglio dare perché è un fatto di attualità e siccome tra di voi ci sono tanti sindaci e tanti amministratori io voglio attraverso questo episodio darvi anche la mia solidarietà al lavoro che fate ogni giorno. Voglio dirvi che questo evento per me è ninfa, nuova linfa, anche noi abbiamo bisogno di avere il contatto con il territorio. Il Covid ha fatto migliaia di vittime e siamo vicini alle loro famiglie e oltre 60.000 morti di questo dannato virus però ci ha creato anche una difficoltà oggettiva nel poterci rapportare con il territorio. Io sarei venuto veramente in tutti i comuni che oggi sono qui rappresentati, avrei incontrato tutti i portavoce nelle regioni, nei comuni, ovunque, nei consigli comunali. Sarei andato ovunque ma questo Covid ci ha frenato e ci ha costretto a doverci occupare di lui. Lui è stato il protagonista reale di quest'ultimo anno nel quale abbiamo dedicato tutte le risorse proprio per combattere questa dannata pandemia. E diciamoci anche un po' le cose come stanno forse un po' più a bocce ferme vedendo una prospettiva. Questo governo ha fatto tantissimo per affrontare una cosa che non avevamo mai affrontato prima, non perché il mondo non avesse mai affrontato una pandemia, ma per il semplice fatto che non si era mai fatto un contrasto globale a una pandemia. Quindi noi siamo, secondo me, oggi, le statistiche c'è di essere anche il primo paese in Europa, più della Germania, ad aver somministrato più di 400.000 vaccinazioni. Consentitemi di dire e di ringraziare tutti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine e gli enti locali che si sono impegnati in questo piano vaccinale, che secondo me è la vera luce in fondo al tunnel. Certo non l'abbiamo superata questa pandemia, certo dobbiamo stare ancora ben saldi e attenti a quello che facciamo, però ci dobbiamo liberare di questa sindrome di Calimero che è quella che colpisce l'Italia, quella di essere sempre secondi a qualcuno, guardare la Germania che sta sempre meglio di noi. In questo caso lo possiamo dire apertamente. Noi su questo piano non siamo secondi a nessuno, siamo ottavi al mondo per somministrazione di vaccini. Oggi chiudiamo anche la somministrazione ai medici, dei vigili del fuoco e quindi questo mi consente di essere oggi comunque in un momento felice dal punto di vista di quello che stiamo realizzando per contrastare la pandemia. So quello che è stato fatto sui territori e so quanto è stato difficile, perché l'abbiamo vissuto ogni giorno. Ma non dimentichiamoci che oggi è anche un altro momento importante, un momento importante perché mentre noi parliamo qui c'è in corso una capidelegazione allargata da altri rappresentanti dei partiti politici che sta discutendo nel merito di nuove risorse fresche del Recovery Fund. Il Recovery Fund che non è una chimera che non arriva mai, è pronto, già una parte di queste risorse sono state utilizzate nella finanziaria ed è oggettivamente un successo che noi, anche facendo parte di questa forza politica del Movimento Cinque Stelle, dobbiamo rivendicare. Dobbiamo rivendicare perché Giuseppe Conte è il Presidente Conte che ha assicurato all'Italia questi duecento e nove miliardi di euro del Recovery Fund. E guardate che se Conte è oggi il Presidente del Consiglio è perché il Movimento Cinque Stelle ha avuto la forza di proporlo e di mettere lì finalmente una persona che ha ribaltato il concetto di Europa. Voi sapete come siamo sempre stati critici a livello europeo. Oggi non esiste più l'Europa dell'austerity, l'abbiamo abbandonata definitivamente, oggi esiste l'Europa del Recovery Fund e sul piatto ci sono 70 miliardi di euro per la rivoluzione verde, cioè quella che ci porterà alla transizione ecologica e che gestirete voi. Di questi 70 miliardi, 12 sono dedicati, pensate, all'efficientamento degli edifici pubblici, che è qualcosa che gestirete voi sul territorio. Poi ci sono i 28 miliardi che abbiamo messo a disposizione nella ricerca dell'istruzione, 22 destinati a nuovi progetti, le politiche del lavoro, ci sono 12,6 miliardi per le politiche del lavoro e quindi oggi la sfida è usare bene queste risorse piuttosto che far saltare tutto rischiando di non usare affatto questi soldi. Ovviamente il riferimento è chiarissimo. Noi oggi ci dobbiamo occupare del virus da Covid, non certo dei mal di pancia di qualcuno che oggi ha delle difficoltà da affrontare quello che è la discussione di merito. Quindi io voglio farvi veramente un appello che questo, come diceva giustamente anche Diego, sia un momento, io ne ho viste tante, guardate perché sono nel Movimento 5 Stelle dal 2004, mi sento un vecchio di questa avventura, sono cresciuto nel Movimento 5 Stelle, ne ho viste tante e ho visto troppe volte l'utilizzo dei territori, cioè l'utilizzo strumentale del territorio, cioè facciamo percepire al territorio, all'attivista, al consigliere, al sindaco che ci siamo, però poi quando è il momento opportuno mi sembra che ognuno si sia, qualcuno si sia dileguato. E quello che è successo un po' al supporto che avevamo, no? Il supporto che avevamo per gli enti locali oggi sta in un altro partito. Il Movimento 5 Stelle aveva scelto una persona, oggi sta in un altro partito. Io non voglio fare polemiche, ma ognuno fa le sue scelte, per l'amor di Dio, ma avevamo sempre detto cose diverse e quindi è lì che noi dobbiamo intervenire. Io oggi sono qui per dirvi questo, per dirvi che noi abbiamo la necessità come Movimento 5 Stelle di stare vicini ai territori. Oggi non so se sarà possibile e se interverrà, c'è anche la sindaca di Assisti che non è del Movimento 5 Stelle, ma che voleva assolutamente partecipare a questo webinar per dare la sua best practice che siamo riusciti a portare avanti insieme, i suoi risultati portati avanti con il Ministero dell'Interno. Oggi il Ministero dell'Interno, dove sto io, dove siedo io, in questo momento, dove ci sono io, ci siete anche voi, perché siamo tutti portavoce, c'è il Ministero degli Enti Locali. Gli Enti Locali siete voi, io vorrei essere pieno di richieste vostre, mentre oggi mi arrivano più quelle degli altri gruppi politici. Questo è qualcosa che non può continuare, per cui io vorrei che questo sia un punto di partenza, per cui sono ben lieto di stare con voi per le prossime due ore e ascoltare le vostre domande e necessità e proposte e idee, in modo tale da poter attivare un meccanismo di qualità che ci possa portare ad avere un rapporto continuo e portare finalmente dei risultati sul territorio, perché guardate che il Movimento 5 Stelle è bello, è una cosa fantastica, è un'ottima iniziativa, però, come gli altri, se non portiamo i risultati a casa, non serviamo. Quindi io sono certo che da questa chiacchierata che ci faremo insieme porteremo tanti bei risultati che saranno una best practice per far ripartire il Movimento 5 Stelle dai territori. Io vi ringrazio e sono a disposizione.